dopo la città insomma in fondo la città allora io se si mi resti vado a prendere la cassaforte quella più lontana ma come ha tossito l'aria vingato uno stupido giuro in che non avete sentito ragazzo ha avuto giuro fatti l'altra cassa leo e faccio questa noia si no no mi faccia ridere la roba però che così su discord a guardare il muto e lo smuto mi ha piegato e allora tutti a me spareranno sono dietro il tavolo leo anche sinistra ce l'hai passati a destra a destra a destra e l'hai inquadrati minchia sopra il tavolo di legno che cazzo è il tavolo qua dietro costi a sinistra zio non ce ne sono tavoli ma come la minchia ma guarda la guardate un'altra volta non c'è nulla qui a destra 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 le vedi sopra il tavolo non è un tavolo questo è un bancale no destra sinistra non si capisce un cazzo c'è gente ferma ferma camperata qua a fondo mappa giuro dario mi sa che c'è un citeri lobby comunque non lo resto più mica quel coglione che è morto mille volte di correzza c'è gente camperata a fondo mappa stai attento ma se non ha lo d'altra e ecc 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 ecc